Senatore Sergio Divina, c'è un allarme che arriva dalle coste della Libia, ovvero? Dunque, ormai è una notizia sodata, l'ha data anche la CNN, i grandi network internazionali. Noi l'abbiamo ripetuto un sacco di volte. Prima si trattava di segnalazioni dei servizi segreti di paesi che collaborano. Oggi sappiamo che ci sono 800 jihadisti pronti a partire per le coste europee. Il primo paese è l'Italia e poi l'Europa. Sappiamo che sono legati all'Isis e sappiamo anche cosa vengono a fare nel nostro paese. Dobbiamo immediatamente, adesso Renzi e Alfano, che hanno le grandi responsabilità della gestione delle missioni, è pur vero che si fermerà il nostro Mare Nostrum, però continuerà una missione similare, Triton, Triton, come la vorremmo chiamare. Noi dobbiamo bloccare a questo punto ogni arrivo dalle coste dell'Africa. Se si vuole fare operazioni umanitarie dovremmo fare dei campi sulle altre sponde africane, verificare chi ha titolo per arrivare, però non possiamo più permetterci di far arrivare persone che sapremo, sappiamo già fin d'ora, che ci saranno commissionate, mescolate a queste persone, terroristi che verranno nel nostro paese con intenzioni ben chiare. Grazie.